Il video Ho perso la testa che faccio vi ha mandato un po' in sbattimento e in particolare mi sono arrivate molte domande riguardo l'affermazione che ho fatto nel video, se ve lo siete perso andatevelo a guardare, le cose peggiori tendono a peggiorare, le cose migliori tendono a migliorare. Spiego meglio o peggio che cosa intendo. Innanzitutto dobbiamo partire da un presupposto, le emozioni creano assuefazione e in particolare l'adrenalina, le emozioni adrenaliniche creano assuefazione. Che cosa vuol dire? Che una persona profondamente irrisolta, se non sapete di cosa sto parlando fatevi il percorso benessere, una persona profondamente irrisolta tende a cercare di colmare i propri vuoti emotivi con dei tappi emotivi. Immaginate le persone che nel corso della loro vita, in particolare della propria infanzia, creano dei vuoti emotivi, questi vuoti emotivi creano dolore e quindi o si appianano questi vuoti emotivi facendo un percorso tipo il percorso benessere di evoluzione e miglioramento, oppure, questa è una cosa che fanno pochissime persone, oppure ciò che fa la maggior parte della gente è quello di cercare di tappare questi vuoti emotivi come con delle emozioni. Ma quali emozioni? Beh, tendenzialmente emozioni negative, perché le emozioni negative sono molto più potenti, come spesso ripeto io, crea molto più emozione uno schiaffo rispetto a una carezza, e quindi queste persone cercano potentemente queste emozioni negative. Ovviamente nessuno cerca le emozioni negative razionalmente, cioè non è che qualcuno dice, uh, un caso umano, dai che mi innamoro, o meglio, alcuni in realtà lo fanno, proprio se le vanno a cercare le emozioni negative, ma la maggior parte della gente ci capita, nel senso che viene trasportata dal suo inconscio, e in realtà fa molto poco per evitare queste situazioni. Ora, il punto qual è? È che data l'irrisoluzione, non l'irrisolutezza, l'irrisoluzione di queste persone, cioè il fatto di non essere risolte, i vuoti emotivi non rimangono uguali nel tempo, quindi o noi riusciamo ad appianarli, quindi la situazione migliora, oppure non appianandoli, diventano sempre più gravi. Che cosa succede quindi? Che c'è bisogno di sempre più emozioni, ed emozioni sempre più forti, per colmare quei vuoti emotivi. Quindi che cosa accade? Che è, provate a immaginare, una persona che ha una prima relazione che non va bene, di fronte a sé, ha due strade. O evolvere, quindi la relazione dopo sarà migliore, oppure peggiorare, quindi la relazione dopo sarà peggiore. Se volete fare il vostro caso, beh, pensateci, molto probabilmente vi trovate in una di queste situazioni. O la vostra vita sta andando meglio, o la vostra vita, ad esempio sentimentale, sta andando peggio. Quindi i casi umani diventano sempre peggiori. Perché? Perché se non state lavorando sui vostri vuoti emotivi, quelli diventano sempre più profondi. Quindi magari avete un primo partner che non vi rispetta, il secondo partner che vi fa intuire di frequentare delle altre persone. Quello dopo ve lo sbatte proprio in faccia, che vuole sentirsi libero e vuole altre relazioni. Questi sono pattern. Se quello che state pensando in questo momento è, cavolo, ma sta capitando proprio a me in questo momento. Beh, è perché non è un caso ciò che vi capita. Ciò che vi capita è dovuto al vostro comportamento. È nel vostro potere cambiare questa situazione. Soltanto che le strade sono due. O la situazione migliora, o la situazione peggiora.